Dai primi contatti nella Milano da bere, dei primi anni Ottanta, con le frequentazioni del Partito Socialista di Bettino Craxi, a quella telefonata, inaspettata, alcuni anni fa, per esprimergli la sua vicinanza in un momento difficile, preludio ad una cena d'arcore. Così il presidente di Sabrom, Carlo Belloni, già vice commissario provinciale di Forza Italia, ricorda Silvio Berlusconi e quel suo modo, a tanti indigesto ma oggettivamente unico, di creare relazioni umane e politiche. Io ho conosciuto il presidente Berlusconi nel 1981-82, quando ero alla segreteria dell'onorevole Gangi, che è l'ora del Partito Socialista, che è l'ora che era segretario amministrativo del Partito. È inutile nascondere che c'era un rapporto stretto fra il presidente Berlusconi e Bettino Craxi, quindi noi eravamo gli uffici in Piazza Duomo, al quarto piano, quindi alcune volte ho incontrato Berlusconi in quel periodo. Ha ricevuto anche una telefonata inaspettata? Sì, devo dire che è una telefonata che conferma questa impressione che aveva avuto negli anni Ottanta, sostanzialmente su Berlusconi, perché nel 2015 ho attraversato un momento particolarmente problematico per la mia personale, voglio dire, nulla che aveva a che fare con la politica e un pomeriggio, mentre stavo riflettendo su queste cose, mi è arrivata questa telefonata del presidente Berlusconi, eravamo nel 2015, che mi diceva che era solidale con la mia posizione, che avrebbe avuto piacere di vedermi, di scambiare con me due chiacchiere ad arcore, cosa che devo dire mi ha fatto molto piacere. Lui era un imprenditore, quindi conosceva il concetto d'azienda, tutti gli altri lo hanno attaccato, criticato per questo suo modo di approcciarsi alla politica, però poi alla fine ne hanno tratto tutti i vantaggi. Mancherà questa figura? Sicuramente sì, mancherà soprattutto in Forza Italia, dove non si vede ad oggi un erede vero di Berlusconi, Berlusconi, forse non l'ha mai neanche voluto, voglio dire lui. Così invece l'ex presidente della provincia di Pavia è politico di lungo corso e docente di scienze politiche, Vittorio Poma. Finisce sicuramente un'era, cominciata nel 1994, che ha segnato la storia del nostro paese per quasi 30 anni. Berlusconi è stato protagonista di questa fase, lo ha fatto con la forza, il carisma di un vero e proprio leader, ha dato agli elettori moderati una casa comune nella quale riconoscersi, con un progetto politico e una speranza, quella della rivoluzione liberale, che insieme ai principi del liberalismo e del popolarismo cercava di coniugare la forza delle riforme, una stagione che non ha sempre prodotto risultati felici, ma nella quale lui ha sicuramente messo impegno e passione. Un giudizio sul suo operato è prematuro, però non possiamo non riconoscere che nel bene e nel male Berlusconi ha scritto la storia del nostro paese degli ultimi 30 anni.